Dopo l'incontro in Capitaneria di Porto e la vista lungo il canale portuale a bordo della motonave dell'autorità marittima, il presidente dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale Ionio, Andrea Agostinelli, ha accolto il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, nei locali dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale Ionio a Gioia Tauro, con l'obiettivo di far conoscere lo scalo portuale, primo porto in Transshipment d'Italia, al centro del Mediterraneo. Seduti allo stesso tavolo, Agostinelli ha voluto convocare le istituzioni politiche e militari, i rappresentanti delle sigle sindacali e responsabili dei due terminal che, in sinergia, concorrono alla governance dell'infrastruttura portuale. Tra i presenti il sindaco di Gioia Tauro, Aldalessio, e di San Ferdinando Gianluca Gaetano, la direttrice dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, Rossella Tallarico, i rappresentanti dei terminalisti Rossi Ficara, General Manager di Autormar, e Antonio Testi, amministratore delegato di MedCenter Container Terminal. Il tenente colonnello Gianluca Migliozzi, comandante del gruppo dei Carabinieri di Gioia Tauro, il tenente colonnello Danilo Persano, comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, il comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, Martino Rendina, e i rappresentanti provinciali delle sigle sindacali CGL, CISL, UGL e SUL. Nel corso dell'incontro, il presidente Andrea Agostinelli ha illustrato le caratteristiche infrastrutturali del porto, soffermandosi sulla crescita dello scalo che, nell'anno appena trascorso, ha raggiunto il record dei traffici con 3.548.827 TEUS registrati da MedCenter Container Terminal e 363.942 autovetture movimentate da Automar. Allo stesso tempo, il presidente Agostinelli si è soffermato sul percorso intrapreso dall'ente per offrire una sempre maggiore infrastrutturazione al porto, che oggi è chiamata a dover affrontare nuove problematiche, spiegando in particolare le conseguenze negative della direttiva europea ETS e soprattutto della crisi del Mar Rosso, che ha generato limitazioni nei traffici portuali lungo il canale di Suez.